hai mai desiderato creare qualcosa di speciale con le tue foto grazie a gm produzioni il tuo desiderio può diventare realtà il nostro servizio di video celebrativo ti permette di trasformare le tue foto in un montaggio cronologico emozionante immagina di vedere le tue migliori foto proiettate su un maxi schermo durante un evento importante ogni foto viene accuratamente selezionata e posizionata in ordine cronologico creando un effetto visivo straordinario questo filmato di grande impatto è sicuramente un modo unico per condividere i tuoi ricordi con gli altri grazie a gm produzioni puoi personalizzare ogni dettaglio del tuo video celebrativo potrai scegliere la colonna sonora che meglio rappresenta la tua storia e aggiungere filtri o effetti speciali per rendere il tuo montaggio ancora più coinvolgente non importa quale sia l'occasione un matrimonio un anniversario o una festa speciale il video celebrativo di gm produzioni trasformerà i tuoi ricordi in un'esperienza indimenticabile per te e per i tuoi ospiti sia che tu desideri emozionare i tuoi amici o sorprendere i tuoi familiari il video celebrativo di gm produzioni è la scelta perfetta affidati a noi per creare un filmato che ti lascerà a bocca aperta e sarà ricordato per sempre